ce l'ho fatta leggermente in ritardo scusatemi ma come sempre oramai qui si corre a una velocità incredibile in più volevo farvi una sorpresa con effetti speciali trovare un posto nuovo dove fare le mie dirette ma non ho avuto tempo e quindi l'ispirazione non è arrivata per tempo e quindi ho questo meraviglioso sfondo bianco stefania ciao ben arrivata adesso aspettiamo che arrivi qualcuno perché ho fatto un ritardo di qualche minuto visto che daniela librandi nel frattempo mi ha mandato un messaggio forse era preoccupata sono qui sono in realtà mi sono anche fatta la doccia avevo tutti i capelli ma c'è un caldo perdonatevi li ho tirati su ciao sabri finalmente luca alessio e ma ciao allora ragazzi questa di oggi quella di oggi sarà un po così con i capelli in mano tutto il tempo ciao oggi giorgia con la cuginetta ariana bene perché parlerò anche di margò questa sera e quindi sono molto contenta che ci sia giorgia allora gli occhietti sono quattro aspettiamo gli autori dei romanzi che ho deciso vi giuro che poi questo devo soltanto trovare il giusto mezzo per questo ciuffo ribelle che non so se mi piace più giù più su va bene sono matta sono matta sono matta ho deciso che va beh vi lascio così ragazzi vi lascio così perché se provo a scioglierli e non mi piacciono e poi fa un caldo becco no va bene vi lasciamo così scrivetemi che stanno benissimo così grazie fantastico isabella mi telefona ragazze sono qui sono qui sono tutti preoccupatissimi ma venite in diretta isabella daniela venite in diretta e mi troverete allora questa sera leggerò dei messaggi dei messaggi adesso mi arrivano i messaggi di tutti ragazzi ero in ritardo di tre minuti sono qui lucia ciao a tutti stai benissimo grazie danni grazie mille se qualcuno riuscisse a mandare un messaggio a isabella nicora e la rassicurasse sul fatto che sono qui e in modo che non temo con questi messaggi che magari mi dica delle cose io non posso andare a prendere i messaggi perché sapete che il terrore che poi cada tutto allora io direi che gli autori dovrebbero essere quasi tutti presenti io so che daniele grillo chiaramente lui è un giornalista al secolo e lavora moltissimo per cui non era certo di riuscire a venire nella mia diretta sicuramente la guarderà indifferita e quindi avrà avrà modo di ascoltare il suo bellissimo giallo firmati insieme a non voglio scrivere cose per al voglio dire cose per altre direi valeria valentini che ancora non conosco che è la sua bellissima moglie ricamati ricamati calmiamoci un momento aspettiamo abbiamo daniele isabella anche la mia la mia la mia l'altra mia scelta emanuela ersiglia badessa non sono sicura che riesca a essere qui nella diretta ma senz'altro avrà modo di ascoltare il suo i suoi brani indifferita io bevo un goccino d'acqua mentre aspetto isabella nicora qualcuno può scriverle sto notando che per chi mi segue da tempo l'abbigliamento si sta un po ripetendo si sta un po ripetendo ma perché non ridete d'altronde oggi cos'è è soltanto il 16 luglio non ho ancora fatto il cambio degli armati e quindi ho ancora un po di roba invernale sarà per quello che sto per morire di caldo ma non importa me lo merito la ila ciao ben arrivata allora io non vedo isabella e questa cosa mi spaventa un po d'altra parte ho un sacco di cose da dirvi abbiamo un sacco di cose da leggere ciao bruno ben arrivato allora parto subito col botto perché durante la quarantena è successa una cosa pazzesca veramente di cose pazzesche ne sono successe per così ma soprattutto una io ho conosciuto anzi lei ha conosciuto me e dopo conosciuto io lei eccoci c'è anche daniele grillo allora sostanzialmente io ho conosciuto margot margot andrionea è la moglie di alberto mesiano che è un pittore di fama internazionale tutto ciò chiaramente a me era era oscuro non sapevo nulla di tutto ciò se non che un giorno ricevo una telefonata da margot la quale mi chiede se mi avrebbe fatto piacere partecipare con il marito sostanzialmente a una mostra internazionale contro la violenza sulle donne allora questo è intanto è stato per me un regalo perché ogni qualvolta si possa dare il proprio contributo per questo per questo tipo di problema possiamo chiamarlo così no decisamente decisamente importante decisamente grave è chiaro che ho detto immediatamente di sì il mio compito sarebbe stato quello ed è stato quello di dar voce a una poesia scritta dallo stesso alberto mesiano a supporto di giselle da salvo baronesa giselle da salvo per dire per dire il nome per intero e si sente che non ho preparato il discorso vero aveva lo sapete io sono così nature e anche gli argomenti importanti mi piace trattarli con spontaneità e non mi piace prepararmi troppo i discorsi che poi diventano un po pesantucci allora questa meravigliosa donna che si chiama appunto giselle da salvo ha avuto una vita molto complicata ha subito violenze davvero davvero importanti davvero gravi e a un certo punto ha deciso di raccontare la sua storia e alberto mesiano le ha dedicato questa poesia che mi farà piacere mi farebbe piacere mi farà piacere leggervi alla fine di questa di questa puntata tenete conto che avete già avuto modo qualcuno di voi avrà già avuto modo di ascoltare questa meravigliosa poesia perché che si intitola amore criminale esattamente come il quadro perché la cosa importante che scusate sono anche un po emozionata questa tutto parte da da un'associazione no il nome dell'associazione è art com expo international associazione culturale con sede in norvegia è da diversi anni che presente la non edizione è stata dedicata appunto al tema contro la violenza sulle donne per cui molti artisti sono stati invitati a fare dei quadri che appunto avessero a che fare con il tema contro la violenza sulle donne hanno partecipato così tanti artisti che la mostra che doveva essere inaugurata al 10 è stata inaugurata al 12 per ovvie ragioni al momento è su youtube ed è su facebook ma appena si potrà sarà in presenza quadri stupendi chiaramente raffigurano dei momenti veramente difficili e io ho avuto l'opportunità di dare la voce alla poesia di alberto mesiano che su youtube sotto il suo alberto mesiano è presente con i sottotitoli in inglese e in portoghese probabilmente riuscirò a fare anche le altre due versioni ma ancora un qualche cosa che preferiscono non dire se riuscirò le farò molto volentieri e e basta quindi direi che vi ho detto tutto vi lascio con il titolo che art quarantaine tema violenza domestica vi ho detto che era non edizione dell'associazione e ma la cosa secondo me più bella è che giselda ce l'ha fatta e anche grazie all'aiuto di suo figlio giselda ce l'ha fatta sta bene si dedica tantissimo a questo tema che la chiaramente la coinvolta è però riuscita a scappare e a farsi una nuova vita e credo che che sia la cosa più bella che si possa che si possa dire a fronte di quattro anni di sofferenze importanti allora scusatemi ma era necessario raccontarvi questa questa storia io sono stata coinvolta ed è la ragione per la quale avete trovato anche la mia la mia biografia il mio curriculum in inglese è una cosa che mi rende molto felice partiamo con le letture e se alla fine ci sarà tempo anche se l'avete già ascoltata e soprattutto se la trovo vi leggo questa poesia amore criminale dunque la serata si svolgerà così rigorosamente in ordine alfabetico se non mi perdo con qualche lettera che sapete che ogni tanto l'alfabeto mi sfugge partiamo con emanuele ersiglia abbadessa e il suo romanzo è da lì che viene la luce edizione pm e questo è il primo poi passiamo a daniela alibrandi ragazzi io ho scelto questi libri in realtà a caso nel senso mi sono arrivati questi romanzi mi sono stati regalati e ancora grazie grazie davvero e di fatto io piano piano li sfoglio vi mentirei se vi dicessi che li ho letti tutti perché non riesco a leggere tutto quello che mi arriva però di fatto ho iniziato a sfogliarli e gli ho scelti e ho scoperto che in realtà la mia scelta è stata doppiamente gradita perché magari erano prime esperienze prime edizioni quindi daniela librandi che peraltro l'ha anche tradotto è un libro che ha avuto moltissimo successo nessun segno sulla neve e direi che il suo primo romanzo gli autori dei romanzi qualora dicessi sciocchezze sono pregati con gentilezza di farmelo presente sotto in modo che io eventualmente nei commenti possa correggere eventuali sciocchezze che dirò d'accordo quindi questo è daniela librandi nessun segno sulla neve io mi sono innamorata della copertina e poi anche del contenuto passiamo poi a daniele grillo il giornalista del secolo che ci siamo incontrati le ci siamo col quale ci siamo incontrati l'altro giorno e mi ha regalato questo questo romanzo avevo piacere questo giallo peraltro bellissimo ragazzi lo sapete ve lo dico sempre se decido di leggerli vuol dire che mi piacciono no visto che di soldi non ne prendo volontariamente almeno scelgo le cose che mi piacciono mi pare allora questo è omicidio su genova milano è scritto da daniele grillo e valeria valentini sua moglie e isabella nicora con l'atelier che ho scoperto essere il suo primissimo romanzo al quale chiaramente è molto legata direi che è una nuova edizione riveduta dall'autrice ed è una la casa editrice you can print un self publishing allora cominciamo quanti discorsi è che ore sono sei un quarto allora come sapete qualora ci sia io leggo la quarta di copertina per farvi entrare un po nel fantastico mondo hai salutato carol ciao bene adesso ci siamo taormina 1932 fermo quell'unica parola pronunciata con decisione attrae l'attenzione di sebastiano caruso un ragazzo di 17 anni orfano di padre la cui vita quel giorno cambia per sempre l'uomo che ha parlato il barone ludwig von trier alto e sottile pallido e vestito in modo impeccabile è così diverso da chiunque viva tormina che la curiosità di sebastiano si accende soprattutto per via della scatola misteriosa che lo sconosciuto tiene tra le mani quando il barone fotografo artista lo scopre nell'atto di seguirlo lo fa entrare in un mondo in cui sebastiano non sospettava neppure l'esistenza grazie al ragazzo che li fa da aiutante da modello e ad elena amato governante premurosa donna dotata di antica saggezza e di un passato misterioso amica e solidale trier impara qualcosa sull'amore che nessuno gli aveva mai insegnato nella fredda casa in cui era stato cresciuto e da cui se n'era andato ma dove c'è luce c'è anche ombra dice spesso trier e insieme alla luce che fa risplendere la bellezza il barone sperimenterà anche l'ombra più cupa la violenza fascista e il serpeggiare delle discriminazioni e rischierà di esterne inghiottito aspettiamo che passi perché la finestra almeno dovevo tenerla aperta a vasistas ho scoperto che si dice vasistas la sola parola che riusciva a comprendere era fermo l'uomo continuava a ripeterla e ogni volta sebastiano si portava una mano sulla fronte per riparare gli occhi dal sole poi spostava lo sguardo sulla figurina davanti allo sconosciuto domandandosi perché quello si rivolgesse al maschile se aveva davanti una ragazza anche piuttosto carina pensava il giovane il vento di mare che si era alzato già dalle prime ore del mattino portava nell'aria pappi di tarassa con leggeri come fiocchi di neve e di tanto in tanto restituiva a sebastiano frammenti di altre parole tutte incomprensibili l'uomo misterioso con la scatola nera appoggiata al ventre e lo sguardo puntato lì dentro come se ci tenesse nascosto qualche insetto fantastico parlava una lingua strana diceva poche frasi e alcune avevano il suono aspro di un ingranaggio di ferro ad ognuna la ragazza prima sgranava gli occhi per qualche secondo poi cambiava posizione sistemava la veste o una ciocca di capelli abbracciava un'anfora di creta o la posava per terra e subito si fermava e fissava la scatola a quel punto lui alzava una mano e con il dito indicava un punto indefinito dello spazio solo allora lei seguiva la traiettoria dell'indice e lì appendeva due pupille nere lucide come i gusci delle cozze di messina benché sebastiano caruso avesse molte cose da fare quella mattina la scena che aveva spiato andando verso il casolare della gnappina a prendere le uova come gli aveva ordinato sua madre lo aveva incuriosito al punto da dimenticare del tutto la commissione così quando vide lo sconosciuto dare due monete alla ragazzina e quella andare via di corsa alzò la testa oltre l'orlo della pietra dietro la quale si era nascosto e accorgendosi che l'uomo si incamminava lungo il sentiero a valle lo seguì a una distanza tale da garantirgli di non essere scoperto era alto più alto di chiunque altro sebastiano avesse mai visto più dei paladini dell'opera dei pupi ma a differenza di orlando ritto e solido sulle gambe procedeva con un'andatura dinocolata con la cassettina nera tracolla che ondeggiava al suo fianco appesa ad una cinghia di pelle sbattendo ad ogni passo sul panno leggero di una redingotte verde oliva caruso di giacche così eleganti non ne aveva mai visto o almeno così aveva dovuto pensare in quel momento rendendosi conto di essere di fronte ad un esemplare del suo genere affatto differente da ogni altro in prossimità del paese il ragazzetto mise un piede in fallo provocando il movimento di un po' di brecciolino lo sconosciuto si voltò di scatto sentendosi seguito ma con un balzo l'altro era già nascosto dietro gli alberi così riprese il cammino scotendo la testa e pensando si fosse trattato di qualche bestiola selvatica avrebbe dovuto occuparsi anche di quelle prima o poi lo avrebbe già fatto se non fosse stato che i volti delle persone li risultavano immensamente più interessanti elatori di storie silenti alle quali lui avrebbe potuto solo accostarsi senza mai penetrarle del tutto era quasi un'ora che si impegnava per immortalare tutto ciò che lo colpiva quando nel pozzetto apparve l'immagine della sua governante seduta su una pietra col volto rivolto verso il sole e gli occhi chiusi alle sue spalle una porzione di rudere la collocava in un altrove senza tempo in cui la donna era una divinità greca glaciale trionfante cercando di non fare rumore si avvicinò per ritrarla non fatelo vi prego disse lei riconquistando il controllo mi concedevo solo un momento di riposo godendomi il sole poi tacquere gli occhi di lui erano fissi nei suoi e se solo ne fosse stata capace la donna avrebbe potuto arrossire invece mantene lo sguardo fermo senza muovere alcun muscolo del viso qualcosa del barone la attraeva inspiegabilmente per questo rimase immobile anche quando la mano di Ludwig si allungò verso di lei continuava semplicemente a guardarlo in un dialogo muto che pure sembrava rivelare molto dell'una e dell'altra in quel silenzio di gesti si sarebbe potuto sentire il battito dei loro cuori ma nel vento su di solo il verso lontano di un uccello mentre il barone le toglieva delicatamente il copricapo e le accarezzava i capelli come rispondendo ad un ordine non espresso Elena alzò le braccia e cominciò a sfilare le forcine dall'acconciatura a una a una posandole nell'incavo della veste tra le gambe quando anche l'ultima fu estratta mosse la testa e i capelli ricadero sulle spalle tutto sembrava lento e carico di aspettative Trier appoggiò la macchina fotografica accanto a sé e le tolse la giacca lei non si muoveva, quasi non respirava tenendo che, temendo che anche un alito avrebbe potuto infrangere la bolla dentro la quale le pareva fossero rinchiusi e quando il bolero cade sulle spalle abbassò la testa per spiare il lavorio di lui sulla scollatura le sue mani stavano ora slacciando la fibbia della cintura per allentare la veste e scoprirla di più quando l'ebbero fatto dalla stoffa emersero le spalle la pelle bianchissima di Elena sembrava opalescente alla luce del sole e il perimetro delle spalle disegnava due curve perfette l'uomo piegò la testa e con due dita abbassò la bretella della sottovesta e poi fece altrettanto con l'altra lasciò scivolare il dorso della mano sullo sterno come per saggiarne il calore e accertarsi di non essere al cospetto di una statua di marmo e subito dopo allontanandosi leggermente prese la macchina fotografica si spostò ancora da lei alla ricerca dell'inquadratura e mentre la fissava nel gioco di specchi dell'apparecchio vide le mani della donna sui ganci della biancheria dopo qualche secondo Elena Amato aveva il busto nudo i capelli scossi da una lieve brezza ricadevano sulla pelle e a seconda del capriccio del vento coprivano lasciavano intravedere il rosa dei capezzoli la stoffa delle vesti appoggiata sul ventre dava l'idea di una tunica appena tolta che si ripiegava in volute casuali sui fianchi Ludwig cominciò a fotografarla come in preda a un demone e ad ogni scatto la donna mutava posizione pur mantenendo l'espressione austera parlava col corpo e con ogni frammento di pelle stava rivelando a Ludwig qualcosa che solo la sua anima avrebbe potuto comprendere e accogliere poi lui abbassò la macchina e lei lentamente si rivestì come se quanto era appena accaduto fosse stato del tutto naturale e abituale tra loro grazie grazie Emanuela per questo libro meraviglioso che davvero ha delle descrizioni che ti portano lì io ero lì con loro lui fotografava lei si spogliava e io spiavo è meraviglioso quindi ecco un altro consiglio di lettura è da lì che viene la luce in ordine alfabetico adesso è il momento di Daniela Alibrandi poi vi saluto vedo che ci sono persone che mi parlano vi assicuro che magari dopo il secondo faccio una piccola pausa saluto chi nel frattempo è arrivato e poi riprendo nessun segno sulla neve la trama del libro inizia ai giorni nostri e porta ad un avvenimento criminoso mai risolto avvenuto nel 1968 quando il protagonista del romanzo frequentava il liceo quella storia che sembrava dimenticata e sepolta torna ad essere improvvisamente drammaticamente attuale per lui ora brillante e stimato medico oncologo di mezza età quando in un caldo e pigro pomeriggio settembrino si diverte a navigare in internet insieme al figlio ha aiutato da quest'ultimo infatti entra in un importante network che si imbatte nel profilo della ragazza che amava disperatamente in quegli anni dalla quale purtroppo non era mai stato ricambiato è l'inizio di un viaggio interiore intriso di profonda nostalgia ricordi, passioni che porterà il suo destino ad intrecciarsi in modo imprevedibile con quello della ragazza divenuta ormai una donna matura il traffico scorre lento e io stranamente oggi ne sono felice perché così posso pensare a lei a come fare per parlarle almeno pochi minuti questa lentezza di movimento mi culla e fa sì che io finalmente rifletta non più come un ragazzo impressionato da ciò che è stato capace di fare ma come un uomo che ha sofferto ed espiato e può riuscire a comprendere alcuni suoi comportamenti che in fin dei conti appartengono al genere umano del resto nessuno degli allievi dell'ultimo anno del liceo classico che frequentavamo classe 68-73 avrà avuto più la voglia di cercare gli altri certamente ognuno avrà continuato la propria vita con il solo desiderio di fuggire da quel posto da quegli anni e soprattutto di dimenticare accidenti se l'avevamo amata quella scuola lì avevamo vissuto forse gli anni più belli e spensierati della nostra gioventù sento un clacson nervoso dietro di me e mi accorgo che il semafero è verde e io non mi sono mosso assorto nei pensieri e immerso nei ricordi che avevo accantonato per troppo tempo ma che premevano dentro di me me ne rendo conto solo ora che ho rivisto gli occhi tristi di Milena quegli occhi quasi trasparenti quanto avevano pianto perdonami sento una fitta nel braccio sinistro e mi accorgo che tuffarmi così indietro negli anni sicuramente non mi sta facendo bene riprendo la guida cerco di convincermi che non è una bella idea tentare di ricontattarla l'impatto dei sentimenti che sto provando in queste ore è estremamente forte e un particolare senso di autodifesa mi suggerisce di considerare solo la vita che ho costruito il mio ruolo la mia professione senza pensare al passato non è rova da poco quello che sono riuscito a creare io insieme a Giulia quel che è stato è stato dicono i saggi ma Milena è lì senza una risposta ancora triste o addirittura disperata non può essere diversa nonostante gli anni trascorsi no lei no il pianto invisibile che sento scorrere dentro di me non vuole ascoltare quella saggia voce che mi suggerisce di non pensarci più mentre tutto il mio essere urla forte vuole di nuovo Milena 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 è un milione di volte Milena mi manca l'aria meglio fare una passeggiata qui intorno e se è aperta la pizzeria all'angolo mangerò una bella pizza e verrò una birra voglio ubriacarmi per non pensare Milena di me avrà quell'orribile ricordo se anche volesse incontrarmi ma come potrò affrontarla provarle come sono io se in fondo lei ha ragione sono poi così tanto diverso da come ero allora voglio solo l'aria fresca di questa serata di settembre esco e mentre chiudo la porta chiave penso che le parole lasciate chiuse dentro di noi possono riaprirsi quando vogliono anche se ci illudiamo di aver dato la serratura a tutte le mandate 18 dicembre 2008 caro diario sei qui davanti a me come uno specchio antico dove si fatica a riconoscere la propria immagine per le troppe venature scure che lo percorrono non ti dirò niente della mia vita che è passata dall'ora a oggi per il semplice fatto che non c'è proprio niente da dire quelli erano gli anni veri quelli illimitatamente belli nei quali ho volato alto come in un cielo inaspettatamente azzurro ora che ne ho riparlato sento di non resistere alla nostalgia mai mai ripensare al passato me lo sono imposto per così tanto tempo e c'ero quasi riuscita no non mi sento di ricordare troppo amore troppa libertà e quanta atrocità glielo avevo chiesto di non parlare più del passato non volevo ripensare più a me a ciò che è stato perché mai mi sono concesso al ricordo ma non so più quello che dico mi sento girare la testa la nausea quanto vorrei ritrovare la vena per tornare a parlarti di me ma non ci riesco devo solo pensare che è quasi Natale devo stare serena ora mi sdraio sul letto e dormo quando mi risveglierò tutto sarà tornato in quel luogo sconosciuto dove ho saputo chiudere i miei tristi e meravigliosi ricordi loro lo sanno quanto mi fanno soffrire è per questo che non torneranno più a mostrarsi ai miei occhi stanchi io fossi in voi lo leggerei ve lo leggerei tutto come ogni volta vi dico che quando io scelgo i romanzi e so per certo di non averli letto fino alla fine e li leggo con voi credetemi che vorrei non smettere vorrei continuare 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 a leggerli allora salutiamo un po' di persone perché dopo passiamo a una trama completamente diversa passiamo a un giallo allora Stefania Di Girolamo dice bello complimenti vero? Alberto Mesiano ciao cara la tua voce melodia il tempo vola come un sogno ma che meraviglia grazie grazie a te Alberto ciao Luci la tua voce le splendide letture sono una coccola nel caldo estivo ragazzi ciao a tutti Alexia sta guardando Francesco mi ha salutato Lina Mazzotti letto recensito bello un buon consiglio dice Isabella Nicola dice bello Isabella Nicola Lucia saluti dalla mamma tua omonima è vero perché la mamma di Isabella si chiama Lucia Fiorenzo Briccola ciao Camilla brava Emma brava Luci si riferisce ad Emanuela Badessa sempre in ritardo un piacere ascoltarti grazie Silvia mi fa l'applauso grazie Daniela arrivato come sei monacale stasera hai ragione Fabi ma tanto perché non sto facendo una diretta di Buona la Prima che mi stimola sempre abbigliamenti succinti e quindi stasera sono molto monacale dobbiamo fare un'altra diretta io e te Fabienne Agliardi è l'autrice del meraviglioso romanzo Buona la Prima edito da Morellini editori del quale abbiamo già parlato diversi giovedì fa nel Morellini Day allora chi è arrivato Daniela Librande la scrittrice mi scrive fantastica Lucia sono commosso una lettura meravigliosa grazie grazie Alessandra Lenz è una magia ascoltarti sei un tesoro grazie per la splendida lettura ma grazie a voi grazie 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 bene bevo persino un po' d'acqua e passerei in ordine alfabetico a questo meraviglioso giallo allora due cose mi hanno colpito parlando con Daniele di questo di questo romanzo una cosa che mi ha detto lui è una cosa che ho scoperto io l'assassino a pagina 1 quindi per tutto il romanzo ci sono i probabili testimoni è fantastico è fantastico fantastico io sono quasi non l'ho ancora finito però ci sono quasi e devo dire che è proprio bello e poi un'altra cosa che invece mi ha detto Daniele che mi ha sorpreso e mi è piaciuta molto è che mi ha detto questo io e Valeria abbiamo fatto un libro piccolo perché nel nostro immaginario ci piaceva l'idea che si leggesse nel tragitto Genova-Milano è bella è bella questa cosa perché effettivamente si svolge su un treno omicidio sul Genova-Milano allora vi leggo la quarta di copertina è scritto piccolo piccolo e la luce comincia a calare ma ce la farò farò un po' così non sembra morto l'uomo ben vestito e calvo appoggiato con la tempia al finestrino del regionale veloce Genova-Milano universitario ha lasciato la vita terrena molto prima di giungere nella cattedrale metallica della stazione centrale dopo averlo avvelenato il suo assassino ha percorso tutte e dieci le carrozze del treno scambiando sguardi e parole con diversi compagni di viaggio e seminando qua e là frammenti di un piano raffazzonato incrociando l'anziana e attenta signora Hilde mamma Paola con la dolce Susanna un capannello di dietologi in trasferta un commesso fotografo un capotreno con le bassette scolpite e un ragazzo nero con l'iPod occhi buoni per risolvere un delitto all'apparenza facile e facile soprattutto per un poliziotto di esperienza come Elia Marcenaro uno che non sa stare lontano dai guai il commissario perché non era stato pianificato un suo coinvolgimento nel caso Deovic anzi era previsto che per un po' se ne stesse coperto e lontano dai guai nel capoluogo lombardo in un piccolo appartamento affacciato sull'hangar Bicocca con l'unico compito di proteggere la piccola Eleonora Giulia da chi la stava minacciando allora ho scelto l'incipit e poi ho scelto il capitolo dedicato al dietologo e come avrei potuto fare altrimenti io lavoro con i dietologi potevo non scegliere questo capitolo prima parte binario morto una cattedrale di ferro vetro e carne in movimento piena di litanie gracchianti sparate nel vuoto e annunciate sempre dallo stesso plim plom troppi anni prima era stata questa l'immagine che Milano Centrale gli aveva impresso in testa spesso amava riportare alla mente quanto l'ingresso in quella stazione avesse accompagnato le sue aspettative l'inseguimento del successo le attese durante gli anni dell'università spesso ma non questa volta scese dal regionale veloce numero 2176 stringendo il colletto della giacca e ponendo la solita attenzione nell'allungare l'ultimo passo sulla banchina una volta sul marciapiede alzò le spalle e roteò la testa in senso anti-orario per far scrocchiare le vertebre del collo con la mano sinistra impugnò la maniglia della 24 ore di pelle scura inizialmente riposta sotto l'altro braccio per scendere piacevolmente dal treno con la destra si aggiustò un ciuffo ribelle di capelli ormai per un buon 40% bianchi nonostante l'età non troppo avanzata la camicia gli stringeva il pomo d'adamo in maniera spietata non era abituato ad indossarla soprattutto la sera inspirò profondamente liberando l'ultimo bottone dall'asola raddrizzò la postura e accelerò impercettibilmente il passo verso l'atrio del grave tabellone e le scale mobili per la prima volta dopo mesi si ritrovò a sorridere all'altezza della prima carrozza voltò lo sguardo verso il finestrino oltre il rettangolo di vetro tempestato di macchie di pioggia sporca un uomo di mezza età completamente calvo folte sopracciglia nere guardava fisso nella sua direzione la testa appoggiata al vetro anche egli elegantissimo pareva rilassato nell'attesa di qualcuno di qualcosa a tradire quella lettura ma occorreva conoscere qualcosa di più di quanto accaduto 60 minuti prima per rilevare il dettaglio il colore innaturale della pelle sotto il mento rossastra e molto diversa da quella del resto del volto nessun cenno tra l'unico passeggero del treno rimasto seduto al suo posto e il tizio con la valigetta e la cravatta stretta intorno al collo eppure si conoscevano e come se si conoscevano ma rapporti da prima idilliaci poi tempestosi tensioni malsedate ambizioni agli antipodi si erano cristallizzate nel passato in un attimo pochi decisivi benedetti secondi qualche minuto prima che attorno alle 11 meno un quarto una donna bassa e grassottella detta alla pulizia del treno iniziasse ad urlare un rivolo di sangue iniziò a scendere dall'orecchio sinistro dell'uomo della prima carrozza il liquido rosso prese a macchiali leggermente il colletto della camicia azzurra e sul tessuto diventò nero come un buco il dietologo a dispetto della sua stazza Federico Mastroianni era ritenuto uno dei migliori medici specializzati nel trattamento dei pazienti obesi a chi gli faceva osservare il convegno nelle conferenze stampa che il suo abito esteriore sovrappeso anche se piuttosto tonico nel portamento e appena fuori dalla dimensione patologica del problema non apparisse troppo coerente con la missione professionale intrapresa ricordava sempre che l'obiettivo non era trasformare chi aveva un po' di pancia in un modello da passerella bensì riportare il soggetto nei limiti di salute senza proibirli di godersi la vita il suo metodo aveva raggiunto un certo riconoscimento e un bel po' di notorietà celebri soprattutto i tutorial su facebook e le ospitate in tv aveva un modo poetico di raccontare i casi di maggior successo e questo gli faceva gioco per entrare nel cuore di molte persone il vero salto dal vivere all'arricchirsi lo aveva ottenuto liberando dai chili in eccesso una famosa cantante uscita di scena a 32 anni per motivi estetici in seguito a una gravidanza impegnativa che l'aveva trasformata in una persona molto diversa da quella che aveva calcato i palchi di mezza Europa il metodo Mastroianni l'aveva rimessa in sesto lei era tornata in pista alla grande e i visibili risultati avevano portato una bella pubblicità nelle mani del dottore e così sorrideva rideva di gusto in quel viaggio di ritorno dal convegno di Rapallo che l'aveva visto ancora una volta protagonista usannato ben pagato lui e il suo staff per spiegare a parte del mondo non solo scientifico i contenuti del metodo Mastroianni non una semplice dieta bensì un mix di azioni che perfino una rivista anglosassone aveva definito miracoloso dietro i sorrisi di Federico però proprio in quel fine settimana si era riaffacciato un ricordo spiacevole dalla platea della sala congressi del lussuoso Excelsior al momento delle domande dal pubblico a un certo punto si era alzata una donna sui 75 anni era ben vestita ma il rossetto troppo pesante e in parte mal applicato sottolineava un certo disagio o perlomeno rendevano la signora distonante rispetto al contesto in quel viso scavato dalle rughe il dottor Mastroianni riconobbe qualcosa di familiare di già visto ma gli capitava piuttosto spesso d'altra parte il commercialista si era stupito dalla quantità di persone che aveva visitato o seguito nell'arco dell'ultimo anno la prima parola pronunciata da quella donna con tono flebile rimase un mistero attenda la interruppe premuroso Mastroianni voltandosi poi alla sua destra Virna puoi portare il microfono alla signora una hostese si affrettò a coprire la distanza tra il palco e la platea sugli alti tacchi dei quali era dotata e il dottore ne approfittò per portarsi alla bocca un bicchiere d'acqua frizzante aveva parlato per un'ora e mezza buona ne aveva bisogno buonasera ripete l'anziana questa volta amplificata dall'impianto della sala congressi ho fatto diversi chilometri in treno per essere qui oggi per ascoltarla lei è stata mia paziente signora credo di averla già vista no io non sono stata una sua paziente ma può essere che lei si ricordi di me ad ogni modo volevo chiederle una cosa dottore l'anziana donna fece una pausa di alcuni secondi come si tirerà fuori le parole e le costasse un dolore immenso che peso ha l'errore nella sua carriera professionale in sala si levò un lieve brosio mi faccia capire si allentò il colletto Mastroianni sinceramente accaldato che cosa intende per errore quando si sbaglia le sarà capitato no al dono dell'infallibilità voglio dire come si sente dopo le cambia qualcosa dentro per sempre oppure spazza via ogni pensiero con un weekend al mare o un aperitivo a Santa Margherita Ligure impercettibile se non al medico una lacrima prese a scendere dall'angolo sinistro dell'occhio destro dell'anziana scivolando nel solco di una ruga che aveva preso posto proprio lì sotto la palpebra e raggiungendo il lato della bocca disegnato dal rossetto il relatore prese un po' di tempo poi provò a ostentare la solita sicurezza da attore consumato beh se intende i casi in cui la cura non ha funzionato signora mi sentirei di rassicurarla cercò di minimizzare ce ne sono stati sì ma la statistica non restituirebbe che poche situazioni e ma che peso gli dà dottore insistette la donna che peso dà l'errore riesce a guardarsi allo specchio sempre ripensa mai a quegli sguardi la donna restituì il telefono il microfono alla hostess impossibilitata a parlare si appoggiò allo schienale della sedia e tornò a sedersi in preda ad un giramento di testa il pubblico iniziò a rumoreggiare con forza per favore riprese Mastroianni portate dell'acqua alla signora e dello zucchero intanto io le rispondo chiedo scusa Daniele e Valerio ho fatto qualche errore è molto bello è un giallo molto bello devo dire scritto veramente veramente bene l'editore è Carlo Frilli cioè scusate fratelli Frilli editore sono un po' in bambola Lucia bravissima riesci con la tua lettura a coinvolgerci completamente adoro leggere Daniela Librandi oh bene i suoi finali sono sempre imprevedibili vedi Emile hai fatto bene a dirlo perché Emile questo vuol dire che i libri vanno letti e vanno comprati e letti fino in fondo allora Bruno ciao Chiara ciao Achille ciao bello letto magistralmente grazie grazie di cuore sei stato eccezionale Lucia Caponetto grazie Daniele scusa mi ho fatto qualche errorino tra l'altro con Daniele organizziamo poi una cosa che vi dirò vi dirò vi dirò quando sarà e avremo occasione di leggere ancora qualche brano di questo di questo romanzo però visto che lui è veramente uno che lavora degli orari assurdi mi sa che faremo una cosa e poi la metteremo dopo nel senso che faremo una una cosa tra noi e che poi verrà vista indifferita insomma non faremo una diretta non era difficile da dire ecco bene siamo arrivati a Isabella Nicora col suo l'atelier bellissimo anche qui mi sono presa un po' di licenze poetiche 12 13 21 23 allora andiamo di quarta di copertina Mirco studente italiano all'accademia di belle arti su invito di un amico parigino trascorrerà nella capitale francese un periodo alquanto insolito nell'atelier situato nel cuore di Montmartre in cui soggiornerà durante quei mesi estivi si troverà a dover affrontare un crescendo di eventi inesplicabile un genio del passato lo sceglierà per portare a termine un singolare compito e il ragazzo dovrà far fronte ad una situazione che metterà a dura prova il suo razzocigno tuttavia Mirco riuscirà a mantenere salda la sua lucidità e la surreale esperienza vissuta in quel periodo cambierà il suo destino Mirco raggiunse col cuore leggero la sua meta il numero 56 di Rue le Pic l'alloggio si trovava all'ultimo piano aprì la porta e si ritrovò in un ambiente incredibile a entrambi i lati delle due alte finestre le tende rigate blu e oro erano spalancate e trattenute ai lati con dei cordoni permettendo alla luce di riempire la stanza il sole si irradiava in tutto l'ambiente sospesa a metà stanza la polvere danzava quieta e solitaria ciò che lasciò Mirco a bocca aperta furono le pareti erano ricoperte di quadri che partivano da un metro di altezza da terra fino ad arrivare in cima poco sotto il soffitto era meraviglioso opere incredibili seppure differenti tra loro una miriade di colori e immagini colpì i suoi occhi era talmente frastornato da tanta bellezza che gli sembrò di essere finito in paradiso non era un semplice appartamento ma un vero atelier nell'angolo vicino a una finestra si trovavano alcuni cavalletti mentre un mobile basso e antiquato occupava buona parte della parete laterale sul ripiano della console incrostato di vecchie macchie colorate c'erano barattoli contenenti pennelli cassette stracolme di tubetti di composti oleosi dalle infinite nuance e flaconi di diluenti poi notò una mezza dozzina di tavolozze poste una sull'altra in equilibrio precario ognuna era ricoperta da uno spesso strato di colore infine parecchie tele intonse di varie misure si trovavano a terra appoggiate al muro lo sguardo di Mirko continuò stupefatto a vagare per la stanza posandosi prima su un dipinto poi su un altro leggendo alcune delle date impresse 1860, 1891, 1867, 1875 non ci poteva credere ma la sua conoscenza del mondo dell'arte gli aveva fatto individuare l'inconfondibile mano di alcuni dei più grandi pittori vissuti del XIX secolo c'erano dipinti che potevano essere attribuiti ad artisti del calibro di Gauguin, Monet, Pissarro, Renoir, Van Gogh e altri ancora dei quali non riconosceva il tratto ma com'era possibile? di certo sono dei fantastici falsi pensò non c'è altra spiegazione ragionevole a tutto questo sì è così è così di sicuro i signori Dubois non lascerebbero mai un simile tesoro incostudito incostudito al ritorno della lunga vacanza Jean telefonò a Mirko riferì che François, suo padre, proponeva di cenare insieme una delle prossime sere il ragazzo accettò volentieri e insieme a Jean stabilirono la data complici il buon cibo, il vino e la bella serata trascorsa insieme a poco a poco Mirko conquistò maggiore confidenza con i signori Dubois decise così, distinto mentre prendevano un po' di aria fresca fuori dal locale di farsi spiegare da François la ragione delle pareti ricoperte di quadri nell'atelier devi sapere, iniziò a raccontare François mentre accendeva una sigaretta per aspirarne subito dopo una lunga boccata si concesse anche di espirare alcuni cerchi di fumo perfetti devi sapere, dicevo che il mio bisnonno era un vero appassionato d'arte dipingeva con risultati assai modesti ma era molto ricco, piuttosto avaro e possedeva una buona dose di eccentricità decise perciò di crearsi una collezione d'arte tutta per sé iniziò così a ospitare nell'atelier di Montmartre moltissimi pittori, alcuni bravi, altri meno quello che è certo è che la maggior parte di loro erano squattrinati nel periodo in cui risiedevano a Parigi alcuni di loro cominciarono ad acquisire una certa fama Antoine Dubois non voleva denaro per l'alloggio l'unica condizione che poneva in cambio era che lasciassero al momento della partenza un loro dipinto eseguito durante il soggiorno nell'atelier gli artisti non dovevano firmare i loro lavori ma apporre in fondo al quadro soltanto la data dell'esecuzione che strana richiesta, perché non dovevano firmarlo? ogni pittore a lavoro terminato sigla la propria opera, fece Mirko non so cosa dirti a questo proposito forse il bisnonno col passare del tempo sempre più bislacco aveva l'intenzione di spacciare per suoi alcuni dei quadri più belli era chiaro che se gli autori avessero apposto la loro firma questo non sarebbe più stato possibile ma è solo una mia teoria, è un mistero che nonno Antoine ha portato con sé concluse François sorridendo molti artisti hanno soggiornato nell'atelier disse piano tra sé Mirko, riflettendo ad alta voce mi domando se è possibile che papà Dubois l'osservò con lo sguardo sembrava incoraggiare Mirko a terminare il suo pensiero poi, visto che il ragazzo taceva, mise fine alle sue perplessità la risposta alla domanda che ti stai ponendo è sì la casa in cui vivi in questo periodo ha ospitato molti dei più grandi pittori nel periodo compreso tra il 1850 e la fine di quel secolo all'incirca le opere che vedi appese alle pareti sono gli originali sconosciuti al mondo intero perché gli artisti non hanno potuto prendersi il merito del loro lavoro ora che conosci la vera storia ti prego di non parlare con nessuno dell'autenticità dei dipinti allora secondo me ho un gusto sopraffino nello scegliere i romanzi da leggervi io non me la voglio tirare per carità non voglio essere presuntuosa ma ragazzi secondo me anche questa settimana dovrete mettere mano al portafoglio eh? allora oltre a mettere mano nel portafoglio che cosa dovete fare? dovete aiutarmi perché questo canale YouTube che effettivamente a causa di queste dirette su Facebook sto un po' trascurando però è rimasto un po' indietro siamo a 249 iscritti riusciamo a fare un po' di pubblicità al mio guardatevi un po' al mio canale YouTube luci trattino basso legge luci con due c in modo che possano aumentare le persone dentro il mio canale YouTube e ascoltare tantissime cose perché ci sono tantissime fiabe ci sono le fiabe di Bruno Volpi di Alessandro Porri di Elena degli Innocenti ci sono tantissime altre fiabe scusatemi non nomino tutti perché non mi ricordo tutti così così in fretta ma ci sono le fiabe di Fai Volare Una Fiaba ragazzi Fai Volare Una Fiaba hashtag Fai Volare Una Fiaba l'iniziativa di Laura Valle che ha portato a un successo incredibile l'iniziativa durante il lockdown ha portato a un cartaceo dove io ho scritto anche una fiaba la corona del virus che è presente su YouTube la lettura la video lettura così come ad esempio c'è Daniela Librandi questa sera io ho letto la sua fiaba sempre all'interno di questo libro c'è la fiaba di Isabella Ricora c'è la fiaba di Mancuso Francesco Mancuso insomma bisogna assolutamente che andiate sul mio canale YouTube ad ascoltare e poi i romanzi ma quanti romanzi ho letto Sara Rattaro la mia beniamina la mia amica del cuore ho letto tantissime cose sue Valeria Corciolani un'altra scrittrice meravigliosa insomma andate 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 pubblicizzate prima di salutarvi se riesco a trovare la poesia in italiano ma la trovo mamma mia se riesco a trovare caspita sono illuminata sembro all'orso vediamo un po' poesia in inglese magari un'altra volta vediamo se trovo ma guardate ma cos'è successo qualcosa perché continuano a passare elicotteri caspita allora poesia vediamo un po' sì ce l'ho siete pronti? intanto ho questa luce che mi fa anche giovane guardate un po' non ho neanche una ruga ora ci concentriamo un po' perché vi lascio con una poesia profonda molto profonda e la gioia di pensare che questa donna ce l'ha fatta Giselle da Salbu poesia di Alberto Mesiano volteggia nell'aria rimbalza al cuore nel giro delle nozze io sogno l'amore quel giorno lontano il sogno svanì e dopo un istante volevo morire legata picchiata a volte frustata e anche nel cuore lo fui violentata lo sguardo al cielo in cerca di aiuto e fosti tu dolce bambino con quello sguardo fiducioso a darmi il tuo aiuto è per te e grazie a te che ho trovato la forza di sopravvivere te lo devo me lo devo una catena ferma il tuo corpo ma una catena non ferma il tuo cuore c'era il sole alto e c'era la luce quella notte che fuggì i giorni bui ricordo ancora e a chiudere gli occhi ho ancora paura se solo potessi tornare indietro morire prima di questo tormento nel cuore ormai porto un solco gigante raccontare la mia storia è molto importante per voi o dolci signore guardatevi intorno non basta un bell'uomo per essere amore ora sono fiera di essere donna ciao a tutti ci vediamo lunedì alle 18 con una sorpresa grandissima per i bambini e per i grandi secondo me piacerà sia a voi sia ai vostri figli sicuramente alle vostre figlie capirete perché vi dico soltanto che lunedì non sarò sola ci sarà una diretta stream yard basta non vi dico nient'altro armatevi di agenda di penna e scrivete lunedì ore 18 lucia e puntini 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 io vi saluto vi ringrazio perché questa sera eravate moltissimi grazie agli autori che oramai non chiedo neanche più permesso perché so per certo su alcuni autori di poter fare affidamento quindi complimenti davvero vero Lina Mazzotti complimenti agli autori che scrivono davvero belle cose in bocca al lupo per le nuove uscite perché direi che di questi tre di questi quattro che vi ho letto il libro di Daniele Grillo edizione Frilli fratelli Frilli Editori è uscito ora e quindi acquistatelo come dice lui guardate un po' si legge veloce è velocissimo ed è veramente bello secondo me la fine sarà bellissimo mi ringrazio Alberto grazie a te vi faccio vedere una cosa prima di andarmene perché mi hanno mandato un simile invito e adesso ve lo faccio vedere ho il momento autocelebrativo ce la posso fare? autocelebrativo comunque su Facebook io però ve lo volevo far vedere ma guardatemi un po' partecipazione Lucia Caponetto Italy bene vi aspetto vi aspetto sul mio canale YouTube vi aspetto qui in diretta lunedì e grazie grazie perché siete sempre di più e io sono super felice ciao a presto ciao ciao